Giovedì 7 settembre si è aperta la finestra temporale per l'invio delle iscrizioni al Rally del Rubinetto che si svolgerà i prossimi 7 ed 8 ottobre. Rally che, da abbonati, potrete seguire in diretta nelle fasi salienti sulla nostra nuova TV locale News24. Sulle strade attorno al Lago d'Orta si iniziano a scaldare i motori dato che l'attesa per la trentesima edizione è alle stelle. La possibilità di inviare le adesioni perdurerà. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.